bellissima compagnia con il vostro chieszo che vi parla bentornati con il quinto episodio del let's play di killzone 1 nello scorso episodio c'erano lasciati che appunto avevamo trovato la soldatessa loager o luge no penso che si pronunci loager e infatti come vi ho detto nel primo episodio in questo gioco possiamo utilizzare diversi personaggi adesso abbiamo sbloccato l'auger o luger come cazzo ti chiami donne insomma e io direi di provarla appunto in questa missione che andremo a svolgere oggi come vedete ci sarà ma che cazzo vuoi dicevo come potete vedere qua abbiamo templar mi stavo dimenticando come si chiamava abbiamo templar come npc controllato appunto dall'intelligenza artificiale e praticamente ognuno dei personaggi controllabili ha delle abilità speciali ad esempio vedete lei c'ha il coltellino ho sentito qualcosa ecco stavo per dirlo infatti c'ha la visione notturna eccola lì vedete io posso mettere la visione notturna ma mi pare che c'eva anche l'invisibilità una roba del genere ciao bello ma neanche l'ho toccato dai rico invece se non sbaglio c'è tipo un mitraglione infinito se non mi ricordo male ciao bello ragazzi gameplay holy knife adesso squadra bravo abbiamo perso i contatti con la squadra alfa che cazzo di voce io ho messo tiè vieni qua vieni qua mamma mia knife battle proprio va bene che l'animazione era ancora una merda però vabbè ragazzi capitolo è di tipo un gioco di praticamente 11 anni fa dicevo 11 anni fa non aspettatevi di c'è già la bella grafica è questa che però è stata leggermente migliorata su questo playstation 3 però io posso dire che comunque le animazioni sono fighe per essere un gioco play 2 se la cava molto egregiamente direi anche no scusa ti sto per coltellare stiamo cercando di tornare dalla nostra squadra seguite bla 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 lei vedete c'è questa sorta di mitraglietta sono barricati nell'altro edificio ci serve qualcuno che arrivi lì e faccia saltare la porta tu sei la più preparata per farlo la carica è già piazzata sulla porta bisogna superare il ponte e attivarla np bro no problem lei come potete ben capire specializzata come cicchino infatti con armi anche silenziosa vai vai tu apri io penso sparare ok devo fare io l'animazione amma mia battlefield style signori ciao idiota ciao idiota ciao idiota ciao idiota amma mia uno scoop oh via 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 Se no smettete di spararmi con fece la pompa, addio santo, lo giuro che vi ammato. E ci deve essere sempre quello buggato male, porca miseria, poverino, spostatelo di lì, cacchio. Qua prevedo tante persone io. Dobbiamo perdere. Sono bloccato, sono giapponesse. Guarda la feed, la feed. UAV. Vedete, l'Auger è veramente figo da fare. Ora intanto abbiamo finito la prima missione, cioè la prima missione di questa puntata, voglio dire, scusate. Tatt, ce ne sono due qui. Uno. E due. Guardate che bello qua, raga, me la ricordo, il parco. Questo qua è il parco dove iniziano ad esserci i primi cecchini. Oh Cristo! Guarda, mamma mia, proprio la precisione di lanciare le granate. Ma se tu mi hai preso, scusa, come fai a urlare te? Oh, una volta che ti ci hai bito il cecchino è figo da usare. Comunque ragazzi, volevo ringraziarvi perché comunque la serie sta andando bene. Pensavo che andasse abbastanza di merda, nel senso che prendeva pochissimi like, aveva pochissimi commenti. Pensavo che andasse molto peggio di quanto invece sta andando. Invece sono contentissimo che a molti di voi ha fatto piacere un let's play, appunto, su una vecchia gloria, appunto, di PlayStation 2 come Killzone. Veramente grazie di cuore. Anche se, vabbè, non facciamo i numeroni, tipo, ah, 300 visual, 2 milioni di là, cazzo me ne frega. È importante che a voi piace il let's play, poi come va il video. Soprattutto mi ha fatto piacere sapere che alcuni di voi ci hanno giocato, appunto, al primo Killzone. E ieri è piaciuto tanto, davvero. Questo mi ha sorpreso veramente tanto, non perché non mi aspettavo che nessuno avesse giocato, non t'azzardare la vita! Raga, non ho vita, raga, non ho vita, corri, 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 non ho vita. Quello è uno, sì, guardalo. I camperini, eh, bastardi. Dicevo appunto, non che non mi aspettavo che la gente avesse giocato a Killzone 1, ma che così tanti di voi che mi seguono principalmente per Battlefield avessero giocato a questo Killzone. Ma io sono tornato al punto di inizio, porca miseria, no. Ci tenevo a ricordarvi che, appunto, dopo che avrò finito Killzone 1 e Let's Play, partiremo con Killzone 2, poi successivamente faremo Killzone 3 e poi ancora Killzone Shadow Fall. E poi, in futuro, ancora futuro futuristico, faremo anche Horizon Zero Dawn, perché lo sto seguendo... Oh, hai rotto il cazzo. Dicevo, sto seguendo Zero Dawn da un bel po', veramente, ragazzi, me ne sono innamorato di quel titolo, anche perché ho sviluppato la Guerilla Games e la Guerilla Games, io ho sempre detto, c'ha delle idee veramente geniali, proprio azzecca il level design sempre, secondo me. Cioè, non ha mai sbagliato un level design in tutta la sua vita. Arrivo, 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 amico mio. Morite, lasciate stare il mio compagno. Come vedete, comunque, le zone non sono proprio chiuse, cioè non sono ai livelli di Call of Duty che sono strade lineare. Comunque si può gironzolare in giro per la mappa, non è tanto piccola. Ed è sempre stata una cosa che, non dico che ha caratterizzato Killzone, perché in Killzone... Ah, quello che cazzo mi fa? Mi guarda? Vabbè, cazzo suoi. In Killzone 2, soprattutto, è molto più lineare il gameplay di gioco, ma in Killzone 1 e in Killzone 3, secondo me, c'è anche un po' più varietà di situazione. A terza sezione? Ok, noi dobbiamo arrivare alla terza sezione, immagino. Da dove sono morto? A parte come sono morto, tutto sbilenco così. Comunque, una cosa che mi sono dedicato a dirvi negli scorsi episodi, che se voi ci fate caso, l'intelligenza artificiale di Killzone è molto intelligente, non è stupida. Cioè, vi fa il giro, vi si nasconde, vi lancia le granate, se vi avvicinate troppo, usa il fucile a pompa, cambia l'arma... Cioè, cambia l'arma. Cambia la modalità di fuoco della sua arma, appunto, da modalità automatica. Diciamo, preme l'E1 per fare il fucile a pompa. Un attimo che sto grattando il naso. C'è nessuno lì fuori? Il Capitano Templar. Sto cercando... Ma si sta sentendo un cazzo! Oh yeah, baby! Dai! Ma come faccio a morire questa metà vita? Perché io muoio così a caso? Ok, ragazzi, rieccoci. Dopo tipo 8 tentativi che sicuramente vi avrò tagliato. Ok. Praticamente ho fatto 8 tentativi che continuavano a uccidere, perché non capivo da dove mi sparasse a seconda contraerea, perché la contraerea è sciotta. Potreste provare ad usare una delle postazioni, sono molto potenti. Ok. Ma smettilo di usare il fucile! Oh, pompo! Dicevo, praticamente continuavo a morire, perché appunto sta cosa qua è sciotta innanzitutto. Oh, morite! Come ci si sente morire dalle vostre stesse armi, eh? Ditemi un po', come ci si sente. Comunque, appunto, dicevo, continuavo a morire, perché la contraerea mi ammazzava. Salto sono uscito a trovare dei colpi dei cecchini e shotarla ancora prima che mi vedesse. Perché sennò eravamo più che fottuti. Non abbiamo tutto il giorno. Eh, lo so, nemmeno io c'ho tutto il giorno. Ok, andiamo avanti, tanto che abbiamo liberato la zona. Vediamo se riusciamo a concludere la missione. A me non chiudo quale episodio. Perché, tipo, sto registrando da quasi 40 minuti. Ok, abbiamo completato, finalmente, questa missione. Mamma mia! È stata la missione più difficile della mia vita, perché ti shottava quella contraerea se ti colpiva. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi lascia un bel mi piace e un commento dicendomi voi cosa ne pensate di questa campagna. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete. Passate dalla pagina a Facebook troverete sotto in descrizione come troverete anche la community su Google Plus creata positivamente per voi iscritti e l'istensione per Google Chrome e Firefox per continuarmi a seguire. Io, come al solito, vi ringrazio di cuore per avermi seguito e noi ci vediamo con un prossimo video. Sempre bye, Bad Company, Italy!